I carabinieri del ROS hanno individuato e arrestato a Durazzo e Lezze, in Albania, due cittadini albanesi latitanti da anni, Keci Astrid e Sufia Skelkim, nei cui confronti era stato emesso un ordine di arresto per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Rispettivamente sono condannati in Italia a 30 e 22 anni di reclusione. Gli arresti sono arrivati al termine di una lunga indagine, coordinata dalla DDA di Trieste, in collaborazione con l'Antidroga, l'Ufficio di Collegamento della Polizia Albanese a Bari e il Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia. I due sono stati sorpresi in residenze protette, utilizzate per nascondere la loro presenza in Albania. Dal 2006 erano rifugiati nell'area per sottrarsi alla cattura. al termine di una serie di indagini condotte tra il 1998 e il 2006, nei provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie di Milano e Rimini. Le indagini hanno accertato che Keci Astrid e Sufia Skelkim, figure di vertice del gruppo Keci, operante a Durazzo, considerato una delle principali organizzazioni responsabili del traffico internazionale di droga, continuavano a garantire l'efficienza del gruppo promuovendo e organizzando, sotto il profilo operativo e logistico, il traffico di ingenti quantitativi di eroina e cocaina. Droga che dai Balcani veniva immessa in diversi paesi europei, tra cui l'Italia, dove venivano utilizzati i valichi del Friuli Venezia Giulia.